il corpo della nazione è in saturazione forse per colpa del panettone o dell'abbacchio alla scotta di do ma qui la crisi è strutturale ce l'abbiamo nel dna i migliori cerperli sono all'opera nelle sale bingo che prima erano cinema porno e prima ancora erano cinema e basta basta che non si sappia in giro che il corpo della nazione è in suppurazione mentre cerca di smaltire le scorie del solito natale che riempie i cassonetti di scatole colorate e le tue vene di sano colesterolo mentre la discarica non ce la fa più non ce la fa più luoghi di raduno principali tabacca e sale bingo snai centri di bellezza bar centri commerciali il pusher sotto casa luoghi di raduno in decrescita esponenziale chiese cattoliche rosticcerie gelaterie pasticcerie luoghi di raduno eccezionali televisione comodamente sdraiati sul divano prima di passare dal sonno la morte computer per chat mega eventi in piazza concerto di natale capodanno sulla luna mega discoteca con netta prevalenza ibiza funerali del papa un grande attore un uomo politico amato molto amato dalle folle folle che fuggono dalla città per le vacanze luogo di appuntamento preferito grande raccordo annulare come il prato per il primo maggio e ristoranti a pasquetta appuntamento collettivo rigoroso al giornale dello sport poggiato su ogni tavolino da bar di tutta questa nazione in lenta saturazione ed è forse per sfuggire a tutto questo che si finisce per diventare un pochino misantropi mentre si fanno esattamente tutti quanti insieme le stesse cose il corpo della nazione è in saturazione 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 la nazione è in saturazione Sei, sei, sei